Guardate che anche oggi ne abbiamo tante da dire, e come oggi veramente sono fatto un file di testo per riassumere un pochettino gli argomenti del video che è bello corposo, bello ciccioso, perché parleremo anche un po' di sogni. Ora ragazzi se non sogniamo a giugno, lo sapete che il calcio mercato è fatto anche di questo, di immaginarsi delle squadre che possono essere anche magari fortissime, anche quella dolce illusione che poi ci riporta sulla terra, ma intanto te la prepari, io credo che sia fondamentale questa roba nel percorso di una stagione. E quindi oh, io voglio sognare, voglio sognare e mi portano anche a provare ad allargare un po' i miei orizzonti. Vi voglio spiegare il perché, come al solito lasciate un mi piace, un'iscrizione e un commento qui sotto e ditemi se anche voi avete voglia di sognare o se volete piantare ben per terra i piedi all'insegna del realismo, ma attenzione che a volte il realismo e anche i sogni possono incrociarsi in una bellissima realtà. 20 operazioni di mercato. Ieri parlavo di questa cosa in live e ho rigirato la domanda anche a Romeo Agresti che è entrato. Cosa significa? Che secondo me la Juve ha almeno 20 operazioni di mercato e andrà a fare in questa stagione. Cosa intendo? Se scambiamo McKennie con Douglas Lewis, sono già due operazioni. Cedo McKennie, acquisto Douglas Lewis. Esce Alexandro, è una terza operazione. Acquisto di Gregorio, è una quarta operazione. Cedo Scesni al posto di Gregorio, è una quinta operazione. Vedete come si fa in fretta? Cinque robe che possono succedere, che magari succederanno, alcune che sono già successe probabilmente, come Alexandro, come di Gregorio. Ci fa presto ad arrivare a 20, eh? Cioè 20 è anche forse poco. E questo è per darvi l'idea di quanto Giuntoli dovrà lavorare quest'estate. Ve ne aggiungo una sesta perché nella giornata di ieri ci sono arrivate notizie comunicati dal Brasile. C'è una sorta di preaccordo per Kai Orge per tornare in patria dopo una stagione molto deludente al Frosinone, dopo un infortunio gravissimo subito con la Juventus Next Gen. Kai Orge è un giocatore che è arrivato con tante speranze. Si parlava di lui anche in maniera puramente esagerata, il nuovo Neymar, il talento, eccetera, eccetera. La Juventus l'aveva pagato veramente poco, mi pare una cifra compresa tra i due e i cinque milioni complessivi tra bonus, eccetera, eccetera. Si parla di un preaccordo sulla base di 7 milioni più il diritto del recompera. Quindi la Juve che vuole tenersi anche la possibilità di averci visto giusto qualche anno fa, io oggi lo cedo abbastanza correggero, vi dico la verità. Non penso che sia un giocatore dei quali poi ci strapperemo i capelli, però se ci sarà anche la possibilità di ricomprarlo in caso di qualcosa di molto positivo dopo un suo ritorno in Brasile, ben venga, tanto meglio, ma sono anche soldini freschi che sicuramente non fanno schifo. E siamo già nel caso a sei operazioni, più tutte quelle altre che dobbiamo ancora fare, perché quando cambia un allenatore, cambia una dirigenza sportiva, queste cose sono molto molto importanti. Tra l'altro proprio ieri è arrivata anche la firma del contratto di un dirigente che andrà a lavorare con Giuntoli, che era sotto Giuntoli a Napoli, quindi inizia a formarsi abbastanza la Juventus di Giuntoli, di Giuntoli, che poi diventa il riflesso di Tiago Motta e di tutti i giocatori. Non solo con Romeo, ieri in live, ma ho parlato anche in privato con Giovanni Albanese. E Giovanni, che era stato anche molto lungimirante in determinate operazioni di mercato, come l'interesse concreto per Cobmeiners, la volontà della Juve di fare di Gregorio, tutte queste cosine qua, io di sera mi ha detto. Ma attenzione, perché c'è anche caso che Rabiot, Cobmeiners e Douglas Lewis non siano operazioni collegate, possono essere anche scollegate, che in realtà è una domanda che ho fatto anche a Romeo ieri, se vi siete visti la live l'avrete sentito questo pezzettino, se non l'avete vista ve lo riassumo io molto velocemente. Romeo diceva Douglas Lewis è un nome vero, è un nome concreto, poi non è così scontato. Anche Giovanni non mi ha detto che è fatta al 100%, però significa che la Juventus sta ragionando, sta lavorando su questa roba qui. McKennie è un giocatore in uscita, c'è la volontà di scambiarlo appunto e trovare l'incastro per un potenziale colpo anche a centrocampo. Io credo che il centrocampo sia il vero margine, il vero punto, il fulcro di questo calciomercato. Ve lo dicevo anche qualche settimana fa, in chi compra Juve ve lo dico io, la Juve deve concentrarsi sui centrocampisti e sui terzini. Poi, quando usciranno, se usciranno anche di altri giocatori come per esempio Chiesa, allora è ovvio che poi devi andare sul mercato anche per gli esterni. Però io oggi vedo una priorità incredibile nel centrocampo e sui terzini, sui terzini è venuto fuori il nome di Di Lorenzo. E poi vedremo, sui centrocampisti sembra esserci già la possibilità di lavorare. E come? Quindi c'è la possibilità di avere davvero un doppio innesto più rinnovo di Rabiot, che sarebbe virtualmente un nuovo acquisto. E tra l'altro, occhio perché ci sono dei nomi in uscita oltre a McKennie. Abbiamo detto, ci ha detto anche Ieri Romeo, c'è Nicolussi che è in uscita, c'è Miretti che è in uscita, vedremo se in prestito a titolo definitivo questi calciatori. Però c'è Alcaraz che è in uscita, c'è Pogba che è in uscita, sono già cinque centrocampisti. Cosa significa? Che poi c'è Fagioli che sicuramente sarà preso in ottima considerazione e l'anno prossimo andiamo a giocarci, ragazzi, un numero di partite che sarà spropositato. Però veramente un numero di partite enorme, potremmo sfiorare le 60 addirittura, veramente qualcosa di folle. E quindi non puoi limitarti ad avere un centrocampo composto da due titolari e mezzo, come magari è stato in questi anni, questo anno in cui avevi soltanto una competizione a settimana. E quindi Fagioli è comunque un titolare insieme a Rabiot, a Cobb Maners e a Douglas Lewis, se queste operazioni andranno in porto, ovviamente. E poi c'è Locatelli. Perché qua noi abbiamo fatto gli ultimi tre anni con Locatelli che era l'insostituibile. Cavolo, non lo puoi mica togliere Locatelli al centrocampo della Juve. Titolare inamovibile. E oggi invece siamo qua che ragioniamo su Rabiot che rinnova, e ieri vi parlavo insieme a Romeo e vi dicevo, secondo me, non è un'operazione puramente tecnica, quanto più anche un'operazione economica della serie. Se Rabiot ha il decreto crescita, mi costa meno rinnovare Rabiot piuttosto che andare sul mercato, però poi devo andarne a prendere gli altri perché mi stanno uscendo quelli lì. E quindi se poi entrano Cobb Maners e Lewis, sono assolutamente a favore del rinnovo di Rabiot per avere un parco a centrocampo ben fornito e di alto livello. Perché non significa che poi dipendiamo al 100% da Rabiot, ma significa che Rabiot diventa uno del gruppo. Ed è una bella differenza, perché in questi anni Rabiot è stato veramente il giocatore di punta al centrocampo della Juve. Insieme a Locatelli, quest'anno insieme a McKennie, l'anno scorso insieme a Fagioli con Pogba, Desapare e Sido. Però Locatelli, che è un giocatore che la Juve paga 40 milioni, che lo va a prendere in un momento in cui è titolare fino a quando non torna a Verratti nell'europeo, che gioca da titolare, meno male, gran parte, quindi giocatore importante, anche lì il quarto, il centrocampista che girava ma che era tenuto in seria considerazione. Quest'anno non solo ha perso il posto da titolare, ha perso pure il posto da riserva, non è nemmeno stato convocato per l'europeo. Viene da tre anni alla Juve non eccezionali, non eccellenti, non esaltanti, e ha un'ultima grande possibilità sotto Tiago Motta, no? Nella serie, o fai bene quest'anno, o la tua carriera alla Juventus è destinata ad oscurarsi, sei destinato a partire. Ecco, e le premesse sono che in questo momento se si concretizzano queste trattative, perché il centrocampo è la parte che vuole migliorare, giunto lì per Tiago Motta, Locatelli è addirittura il quinto. Cioè noi passiamo paradossalmente da Locatelli che è nella top 2, a Locatelli che è quinto. E io credo che questa sia un'ottima notizia per la Juve, perché più aumenti il livello, più aumenti la qualità, e meglio è per l'allenatore che a disposizione avrà la possibilità di fare delle scelte. Vi dico, io in questa stagione a tratti avrei preferito vedere Nicolussi al posto di Locatelli. Ci sono stati dei mesi in cui Locatelli veramente era anche fuori forma. Qualcuno dice che è sempre stato impresentabile, ma Locatelli è sempre stato chiesto un lavoro completamente diverso dal centrocampista. Locatelli quasi faceva il difensore aggiunto in una linea 4, era praticamente al fianco di Bremer in tante occasioni. Gli era stato chiesto di annullare completamente la fase di costruzione del gioco, di concentrarci soltanto nella fase di distruzione e di intercetto. E allora è ovvio che vengono meno le caratteristiche di un determinato giocatore, tant'è che poi va a perderla a Nazionale, quindi snobbato anche da Spalletti, e in questo momento virtualmente nella Juve che si sta costruendo snobbato pure a Tiago Motta. Poi magari sul campo quest'estate si ritrovano e Tiago Motta dice cavolo, regalo Catelli, alla fine non è male e panchiniamo Rabiot? Non lo so, la butto lì. Però secondo me oggi è più facile che Rabiot venga panchinato magari da fagioli. Però in un ipotetico 4-2-3-1 Rabiot e Luis in mediana con Komeners sulla tre quarti dietro Vlaovic secondo me ci siamo nella costruzione della Juve dell'anno prossimo. Quindi questa è un'ottima, veramente fondamentale e magnifica notizia per i tifosi della Juve che da tanti anni dicono oh, il centrocampo va migliorato. Ecco, questa potrebbe essere la storica sessione di calcio americato in cui miglioriamo il centrocampo. E qui c'è nuovamente, voglio sottolinearlo ancora perché me lo state continuando a richiedere, la risposta alla domanda, sì ma Giuntoli cosa ha fatto in un anno? Ha programmato, ha messo avanti. Se queste trattative oggi sono qui che esistono poi non sappiamo se si concluderanno positivamente al 100% oppure no ma se esistono è perché Giuntoli ha avuto modo di lavorare un anno. Piccolo recap. Da quando è arrivato Giuntoli, Bonucci è uscito. Alessandro è arrivato alla conclusione del contratto, Pogba si è fatto fuori da solo, Allegri è stato esonerato, quindi tutto quello che era il legame con la vecchia Juve è stato tagliato con la Juve dei giocatori o dei dirigenti, degli allenatori che guadagnavano cifre importanti, non c'è più. Si sta lavorando sull'uscita di Scesni perché ha delle cifre importanti e si sta ragionando su Chiesa perché è comunque un calciatore che vuole delle cifre importanti. Quindi Giuntoli sta facendo veramente tabula rasa di quello che è stato il passato per crearsi la Juventus a sua immagine e somiglianza, su misura sulle richieste di Tiago Motta. Come andrà? Cosa succederà? Soltanto il tempo e il campo avranno questa risposta. Però io per la prima estate da tanti anni a questa parte sono qui che respiro aria positiva, aria di programmazione, aria di cose già decise in precedenza che ora devono soltanto incastrarsi ed essere ufficializzate. È una dolce, dolcissima attesa. Non la sto vivendo con l'ansia del Oddio, perché non annunciamo Tiago Motta? Perché se la vivo in quel modo, devo ricredermi su tutto quello che è stato il lavoro di programmazione perché se poi Tiago Motta non arriverà a Juventus, ovviamente a Giuntoli dobbiamo dare una massata tra capo e collo. Ma sono tranquillo, sono sereno. Sono pronto a vedere dove andrà a parare la Juventus di Giuntoli e quali saranno tutte le occasioni di mercato che riuscirà a portarsi a casa. E attenzione anche a qualche nome un po' così di quelli meno conosciuti perché quando poi bisogna centellinare, andare a sistemare magari terzini, magari esterni, ecco che lì possano venire fuori alcuni nomi un po' diversi, un po' particolari fuori dalla Serie A che magari non conosciamo ma che possano rivelarsi poi giocatori interessanti, un po' come fu con Arturo Vidal nell'anno del primo scuoletto di Conte. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao a tutti.